Le donne dai 45 ai 50 anni hanno lo stesso rischio delle donne dai 50 ai 55. Parte da questa rilevazione scientifica il progetto del Veneto di abbassare l'età della prima mammografia per la prevenzione del tumore al seno. Finora le soglie per il controllo di routine erano fissate dai 50 ai 74 anni, con quasi 200.000 donne che sono sottoposte a screening. L'Ulss più attiva è la 2, marca trevigiana, con il 100% degli inviti all'esame e l'82% di adesioni, contro la media nazionale fissata l'84% degli inviti e quasi il 60% di adesioni. Esami che nella nostra regione hanno individuato oltre 1000 cancinomi mammari, quasi tutti tra i 50 e i 69 anni. Ma in Veneto sono molte le donne di ben più giovane età che chiedono di potersi sottoporre ad una mammografia. Da di sotto dei 50 anni ha senso alla mammografia qualora ci sia un'indicazione clinica, il medico o la donna si sono sentite qualcosa al seno, al di sopra dei 50 come screening. Se non c'è un'utilità del fare la mammografia è solo un esame, non solo inutile ma dannoso. Perché significa comunque sottoporsi a degli stress fisici e psicologici determinati magari da approfondimenti e risultati che poi si rivelano dei falsi positivi. Tutto questo che si chiama il rischio di sovradiagnosi, cioè diagnosticare qualcosa che poi di fatto non c'è, va tenuto da conto perché ogni esame inutile è un esame dannoso per la serenità delle nostre donne. Rimane comunque la fascia giovane per la quale la regione Veneto, prima in Italia per i risultati nella lotta al tumore al seno, ha deciso di avviare una sperimentazione che riguarderà tutte le donne dai 45 ai 74 anni della ULSE 5 Polesana e 6 Euganea. Abbiamo deciso di fare una proposta di screening personalizzato, quindi non tratteremo tutte le donne nella stessa maniera ma in base al rischio che calcoleremo con un test del rischio familiare e calcolando la densità del seno decideremo come seguire queste donne. E quindi alcune faranno la mammografia semplicemente ogni due anni o ogni anno, altre invece avranno associato anche una ecografia. Nel caso in cui trovassimo un rischio molto elevato verrà aggiunta anche la risonanza magnetica.